Io sto aspettando di finire per buttarmi dentro, però mi serve un flexi perché sennò glielo non lo tiro fuori, o un winzaglio o un winzaglio o un winzaglio, non lo tiro più fuori, non lo tiro più fuori, sì, vabbè allora magari dopo tiro, intanto lo faccio faccio la G2 e poi mi riesco, sta per seguire, non l'ho preso, ma guarda mi basta il flexi, tanto lui va, si vuota un attimino, perché mi agita, se la panna e mi faccio 12 anni sono grande, no gli altri due fanno tanto, non si aveva neanche la palla, vanno, nuotano l'acqua ti tiri qualcosa, anche a tanti degli altri nostri è così, il calivero ha imparato da Brick, Brick piace montare per i tassi colpi, o sei al mare che volisci le onde, allora non mi tiri niente, ma volevo le onde, glielo fa con la piscina, se ne crea da solo e poi se ne morga, ma se no entra e qua si fa qualcosa di più, arriverà qualcosa, così sale ancora dietro la palla, bambina mai quando non l'abbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.